eccoci ciao angelo ciao buon pomeriggio siamo angelo ricercatore sociologo presso l'università di perugia dipartimento di scienze sociali allora benvenuto in questo spazio angelo e vorrei partire subito con delle domande allora anzitutto ti occupi di una fetta della società che generalmente le persone non vuole però non vogliono proprio vedere e questa fetta della società è forse fra le più emarginate possibili nel senso che ti occupi principalmente di homeless so che hai avuto delle esperienze non solo sul territorio italiano ma che anche ti sei diciamo spostato in india calcutta dove anche lì sei entrato in contatto con queste realtà allora la prima domanda è cosa ti ha portato ad avvicinarti a questo tipo di di mondo a questo tipo di marginalità sociale allora diciamo che percorso un po lungo cominciato negli anni in cui facevo l'università ero studente sono siciliano quindi mi sono trasferito a roma cominciato a conoscere un po questa grande città quindi per la mia volta ho visto anche un po i poveri perché diciamo che sai quando proviene da un contesto piccolo sai che ci sono i poveri però non non c'hai mai contatti diretti perché rispetto a una grande città un piccolo centro come questo del mio siciliano vedi semplicemente quelle persone che vengono che ne so la domenica a chiedere il pacco durante le feste però il povero in sé diciamo non lo vedi di persona non lo vedi fisicamente tuttora purtroppo nei piccoli centri è così sembra quasi che insomma la povertà in questi posti non esista ma in realtà ce n'è tantissima quindi arrivato a roma ho cominciato un po insieme ad alcuni colleghi dell'università andavamo alla stazione termini la sera a portare da mangiare in maniera del tutto individuale c'erano molti gruppi sono arrivato a roma che era il 99 2000 quindi era un momento storico molto forte per diciamo per anche per l'associazionismo nelle strade il giubileo del 2000 quindi c'era molto movimento quindi da lì ho cominciato un po alla volta a fare un po diverse esperienze di questo tipo finché poi ho tanti anni fa conosciuto le sole di madre Teresa di Vercutta con cui diciamo ho cominciato un rapporto di collaborazione se vogliamo insomma quindi gli aiuto a servire alla mensa e poi da lì insomma sono nate tutta una serie di esperienze legate sempre prevalentemente al mondo della strada ed è proprio da questo che nasce un po la mia il mio interesse ad andare due anni fa a Calcutta ci vado prevalentemente prima perché mi interessava vedere un po il luogo dove tutto è cominciato no questa grande donna di origine albanese insomma che ha rivoluzionato il modo di rapportarsi ai poveri perché di fatto è un modo tutto nuovo e completamente diverso da molte altre realtà e quindi come dire dopo aver conosciuto la loro realtà italiana quindi anche un tipo di povertà occidentale decido di andare nella cultura orientale che ti presenta un tipo di povertà che è totalmente diversa da quella a cui noi siamo abituati la povertà occidentale lei diceva benissimo è una povertà prettamente spirituale perché di fatto c'è tutto ci sono i poveri però di fatto rapportata all'Oriente è completamente diversa cioè in Oriente manca tutto in India ancora siamo indietro per molte necessità dei beni primari alle medicine alle band tutti come dire tutti qui tutte quelle opportunità ma anche di quei prodotti che noi siamo abituati invece ad avere con molta naturalezza e a buttare no a volte per eccesso e quindi lì come dire inizio a confrontarmi con questa realtà che ti lascia inizialmente abbastanza attonito sconvolto perché insomma per quanto io conoscessi lo spirito di madre Teresa avessi letto molto conoscessi il loro stile di vita che è uno stile di vita abbastanza duro impegnato a favore dei poveri con molte ore di lavoro quotidiano e così via quando arrivi lì insomma ti trovi spiazzato perché pensi di essere catapultato in un'altra realtà in un altro mondo un mondo che proprio ti è lontano anni luce io ho fatto un calcolo che guardando anche visitando anche alcuni appartamenti di Calcutta io penso che ne siamo che loro sono indietro dal punto di vista proprio strutturale diciamo della dello stile di vita proprio quasi una settantina ottantina d'anni rispetto a noi proprio anche già te ne accorgi nella gestione degli appartamenti nel modo in cui sono costruiti negli usanze e poi c'è un contesto igienico che chiaramente fa molto molta paura ed è credo una delle principali cause di come dire di diffusione di malattie di vivere in un contesto che è quasi un po' affievolito cioè dire è una consuetudine per loro per molti di loro lavarsi per strada mangiare per strada cucinare per strada tutte quelle attività che noi insomma non faremmo mai per strada no invece per loro è normalità questo è normalità ed anche culturalmente quasi come dire passami il termine quasi accettato per certi aspetti cioè non non c'è alcuna non c'è stupore ecco cioè l'occidentale come me si stupiva per i giorni quando passava con l'autobus vedeva queste grandi strade affollate e vedeva gente che si lavava i denti che si vestiva che si lavava e così via e per loro passa tutto in osservato senza diciamo creare particolari disagi particolari particolari complicanze quindi diciamo Calcutta mi è servita anche per rapportare due tipi di realtà l'occidente da un lato l'oriente eccessivo dall'altro dove però attenzione l'oriente eccessivo per quanto riguarda l'aspetto igienico diciamo della povertà proprio materiale perché poi se vai a vedere invece i rapporti che ci sono tra i poveri stessi e tra chi si rapportano i poveri io dico sempre non ho mai visto un povero piangere a Calcutta non c'è mai un povero che si piange addosso c'è molta solidarietà anche tra di loro per strada oltre che magari per le persone che li aiutano però tra di loro stessi c'è una grande una grande come dire collaborazione e poi da un lato è come se ci fosse diciamo una sorta di di abitudine a quello stile di vita a quella condizione sociale però dall'altro nemmeno una una grande tragedia cioè loro vivono quello stato di povertà quotidianamente senza doversi necessariamente lamentare senza doversi necessariamente come dire piangere addosso o venirti dietro per chiederti l'elemosina cosa che invece noi vediamo se come dire viviamo un contesto occidentale come quello di Roma devi fare un po' a volte una attenzione specifica a chi è realmente povero e chi invece diciamo tra virgolette si maschera povero no perché io dico sempre anche a Roma io da poco ho creato una mia associazione missione solidarietà e quindi diciamo tutti tutti i giovedì sera andiamo per strada portare portiamo da mangiare viviamo con loro un momento proprio di diciamo di fraternità più che distribuzione di vasti perché non è solo quello che serve al povero e negli anni negli anni mi sono reso conto che ci sono come dire forme di povertà che noi non conosciamo cioè il vero povero non ti chiede mai se ha bisogno qualcosa in genere devi essere tu che lo devi andare a cercare invece il povero come dire che talvolta ci marcia su e che magari non ha una condizione di povertà estrema è quello che invece viene lì ti chiede soldi, ti chiede questo, ti chiede quello quindi bisogna fare anche molta attenzione nel modo di rapportarsi alla povertà perché se non il rischio è di come dire di di fare più attenzione a quella persona che non ha bisogno sottovalutando mettendo al margine chi invece non parla e invece ha delle difficoltà notevoli certo e come mai ci sono queste differenze secondo te molto interessanti peraltro? da che cosa dipende? è una questione culturale, psicologica, sociale? io credo che sai a volte anche la disperazione la disperazione di vivere in una determinata condizione sociale porta le persone a non dico a costruire però a tracciarsi un percorso dove possa come dire quando meno rimanere a galla c'è la disperazione, volercela fare a tutti i costi a volte ti porta ad essere, ad uscire le unghie ad appoggiarti, ad aggrapparti a delle ipotesi delle ipotesi che ti consentono di non schiacciarti, di non farti schiacciare invece il povero povero, quella persona che vive strada che non ha invece nemmeno quella furbizia di fare questo ma lo fa con molta ingenuità sa che in un certo senso un po' vive lì quella sua condizione se non vedi tu che ti porti qualcosa da mangiare e non viene e si lascia andare invece diciamo la persona che si costruisce questo percorso che a volte finisce anche con l'inventare delle storie e così via lo fa perché c'ha da un lato una disperazione molto forte io dico sempre quando queste persone vengono a bustare alle porte delle mense a chiedere vestiti e magari non ne hanno bisogno più di tanto c'è già qualcosa che non va comunque nessuno verrebbe a mangiare una mensa nessuno verrebbe a chiedere un paio di pantaloni se stesse bene quindi c'è da un lato questa doppia lettura cioè una questione come dire di volercela fare dall'altro però anche intervengono dei problemi psicologici che spesso e volentieri sono evidenti in molte persone certo ecco, ci vuoi raccontare un po' appunto che tipo di lavoro svolgete con la tua associazione come funziona l'unità di strada un po' che tu ci raccontassi un po' ecco un po' di questa realtà sì, guarda è una classica giornata tipo cioè è un giovedì sera è un giorno che ci muoviamo sempre da Corso Vittorio Emanuele dove c'è la chiesa nuova e ci spostiamo un po' a piedi insieme ad altre persone che mi aiutano io preferisco prevalentemente spostarmi in quei posti in cui molte associazioni e gruppi non vanno perché sai Roma se tu vai alla stazione Termini è strapiena di associazioni e così via e va benissimo quello però ci sono poi molte realtà purtroppo che rimangono un po' un po' come dire isolate da questo io ho fatto anche una scelta di questo tipo noi ci dirigiamo sempre spesso lungo Tevere sotto i ponti in queste zone un po' meno conosciute dove con le persone che ci vivono in queste baraccopoli si è creato ormai un rapporto di amicizia quindi li andiamo a trovare gli portiamo un pasto caldo passiamo un po' di tempo con loro a volte raccogliamo anche delle richieste diciamo dell'esigenza laddove è possibile cerchiamo di aiutarli di indirizzarli in dei dormitori quindi non è solo il mangiare che gli portiamo e quindi facciamo questo percorso che parte dalle 6 del pomeriggio dura circa una o due orette facciamo un po' tutta la zona del lungo Tevere fino a via della conciliazione e zona di Mitrofe ed è molto bello perché bello però da un certo punto di vista anche molto triste perché per strade incontri per esempio molte donne che vivono sole che dormono ma è molto difficile a volte perché molte di loro sai quando vedono soprattutto degli uomini hanno paura no? giustamente poi un po' alla volta si lasciano andare nell'amicizia quindi si ricordano di te e si avvicinano quando tu vai per strada ed è credo io penso che la strada rispetto a tante altre realtà rispetto alla mensa ai centri di ascolto sia quel posto in cui vivi proprio in maniera molto forte il senso della povertà perché sai quando vengono in mensa li vedi entrare si siedono e poi soprattutto non li conosci più di tanto quando invece gli incontri per strada settimanalmente li vai a trovare ti ricordi i loro nomi io chiedo sempre come si chiamano loro si ricordano di me di altre persone che mi accompagnano si stavano un rapporto quasi di amicizia di un contatto che solo la strada ti può dare perché sei tu che li vai a cercare invece mentre in quel caso nelle mense o nei dormitori loro vengono lì sei tu che in un certo senso li devi andare a trovare perché altrimenti rischerebbero proprio di essere come dire totalmente staccati dalla società io spesso vedo sotto il tevere delle real times insomma che sconoscevo totalmente di persone che non ho mai visto sopra la città di cosa in breve perché è come se Roma avesse questi due spazi da un lato c'è la città dove si muovono gli autobus dove noi corriamo dalla mattina alla sera chi va in ufficio chi va a scuola poi giù c'è tutta un'altra città che appare sconosciuta al mondo al mondo proprio ed è una cosa molto triste perché ci sono tante vite umane tanti giovani e soprattutto questa è una cosa che io vorrei dire non ci sono solo stranieri perché spesso e volentieri si passa un po' questo messaggio gli stranieri che vivono in strada tornassero dal paese loro gli spot che per me siamo abituati a sentire purtroppo di fatto ci sono molti italiani per strada ci sono tanti padri separati io conosco tantissimi padri separati che non ce la fanno a vivere diciamo a mantenere le famiglie di provenienza e la loro e quindi finiscono sull'astrico a vivere strada e quindi questa realtà sono in un certo senso abitata da queste persone prevalentemente non è solo il povero che noi pensiamo essere il tipo il signore o la signora col carrozzino alla stazione termini no che porta i suoi i suoi indumenti ci sono molte persone che sono diciamo nascoste nella povertà persone con la giacca con vestite magari discretamente e che di fatto vivono in strada e tu dici non potresti mai immaginare che quella persona è povera quindi diciamo la mia associazione nasce prevalentemente per questo cioè andare a cercare queste persone e dimostrare loro nei limiti del possibile per il momento una piccola realtà un rapporto di solidarietà di aiuto e anche di farli uscire un pochino da quel contesto perché chi vive strada in genere ti dice sempre se io parlo con i poveri che dormono accanto a me io parlo con loro solo di questioni legate alla nostra condizione se invece vieni tu che non sei povero allora io con te posso fare due chiacchiere quindi posso posso immaginare che la mia vita ancora un senso ce l'ha no in questo senso ecco queste situazioni di povertà sono quasi mai riscattabili o ci sono delle storie di persone che alla fine riescono comunque a riprendere un contatto con la società ci sono guarda ci sono molte sì ho visto raccolto negli anni molte situazioni di storie di persone che ce l'hanno fatta però persone che ce l'hanno fatta hanno intrapreso un nuovo percorso di vita persone che ce l'hanno fatta e poi sono ricadute nuovamente perché è un po' il rischio quando ce la fai soprattutto con quelle persone che hanno difficoltà di dipendenze dal gioco dagli stupefacenti e così via insomma il limite tra il cadere e rialzarsi e ricadere è sottile soprattutto se non è un aiuto alle spalle però in questi anni mi è capitato di avere delle storie molto belle di persone che ogni tanto vedo che lavorano nei bar nelle pizzerie che ce l'hanno fatta che prima dormivano in strada che quindi c'erano tantissimi ragazzi che venivano dalla comunità di San Patrignano che uscendo dalla comunità si erano ritrovati un po' soli come purtroppo può succedere a tutti i percorsi comunitari insomma uscendo poi riesci puoi essere un po' come dire no così sperduto senza alcuni punti di riferimento però molte di queste persone poi adesso ce l'hanno fatta quindi lavorano fanno un lavoro dignitoso si sono affittate delle stanze spesso anche tra di loro è successa questa cosa due tre di loro che vivevano in strada che hanno trovato un lavoro si sono aiutati l'un con l'altro hanno intrapreso un percorso di vita però certo è molto difficile perché purtroppo una delle domande che ti fanno loro in strada è ma aiuti a trovare un lavoro questa è la cosa più difficile perché non è facile perché a volte quando li puoi aiutare non c'è lavoro quando li puoi aiutare molti di loro sono con percorsi diciamo di fedina sport sono state in galere quindi è complicato la gestione di chi può realmente trovare lavoro cioè il lavoro dovrebbe essere una delle basi per poter fargli cambiare vita però è difficile inserirli purtroppo certo senti Angelo so che hai scritto anche un libro molto interessante dal titolo un po' provocatorio che si chiama Non chiamateci Barboni tu ce l'hai ce lo vuoi mostrare ce l'hai da qualche parte lì vicino a te non ce l'ho come figlio va bene di che cosa parla questo libro il libro era un po' il mio diario era il mio diario di molte sere diciamo trascorse a Roma con i poveri io un giorno credo che la scrittura sia proprio uno delle dei momenti forse terapeutici per chi ha a che fare con queste persone perché sai quando vai in strada a volte rimani un po' basito per le storie che ti vengono raccontate a volte sei contento perché li vedi delle persone che ce la fanno però è chiaro che immagazzini tante di quelle emozioni più delle volte che è difficile da realizzare da contenere e quindi ho cominciato negli anni proprio a scrivere un po' tutto quello che mi succedeva quest'anno ho deciso di pubblicare questo libro chiaramente togliendo insomma i nomi delle persone e ci sono alcune storie di persone che ho incontrato lungo la cupola di San Pietro sotto il Tevere in molte situazioni e in più c'è una parte un appendice che è tutto il mio diario a Calcutta quindi tutte le mie giornate a Calcutta quindi è un po' una mia esperienza biografica vissuta con loro ed è proprio il nome ha un senso perché era una voce e proprio un urlo che una sera sentì a Piazza San Pietro di un uomo che diceva non siamo solo barboni non chiamateci barboni ed era un grido di sofferenza ma anche un grido di isperazione di aiuto perché spesso e volentieri stare strada ed essere etichettati come barboni fa sì che poi finisci col credere di essere realmente quello e di non poter pensare di cambiare anche tra di loro spesso e volentieri per offendersi ma dicono guarda sto barbone cioè dire come se loro non lo fossero molti di loro e questa è una cosa molto brutta perché la nostra società è una società come dire fortemente carica di etichette di categorie e non mi piaceva proprio a me non è mai piaciuto questo nome il barbone di per sé quindi poi quando ho sentito questo grido di questa persona che diceva non chiamateci barboni per me è stato un po' una lampadina che mi ha detto beh forse è il caso di mettere per iscritto di far conoscere un po' queste storie di lanciare un messaggio che questa condizione sociale non deve essere una condizione come dire che dura tutta la vita può succedere si può accadere però ci si deve rialzare chiaro che questo libro io dico sempre non è un libro sociologico per me perché è un libro che sta a metà tra le esperienze biografiche e anche la mia esperienza di fede però a prescindere da quello chiunque può rapportarsi ai poveri cioè chiunque può farlo e fa molto bene a noi stessi più di quando possa fare bene a loro certo senti Angelo appunto hai un po' anticipato la mia domanda ovvero come reagisce la società in genere di fronte a questo tipo di fenomeni mi pareva di aver capito che c'è una differenza fra la società ad esempio di Calcutta e la nostra società perché noi tendiamo molto a stigmatizzare a etichettare eccetera eccetera ma ci sono dei casi in cui la società riesce veramente a fare qualcosa di buono per riscattare queste situazioni sì è chiaro sono due realtà diverse l'Oriente l'Occidente a me la cosa che colpisce spesso e volentieri è il modo in cui si fa un po' si cerca di aiutare queste persone ok cioè l'associazionismo l'aspetto diciamo legato alla fede al mondo laico in generale quando si rapporta ai poveri non è sempre uguale non è sempre uguale queste buone ci sono persone che magari non hanno mai avuto rapporti con loro e loro stessi mi raccontano i poveri stessi mi raccontano quando si rapportano in strada con loro che ne so gli portano un piatto di pasta e scappano no? vanno via quasi ad avere paura oppure una coperta gliela lanciano no? e quella è una cosa molto brutta perché ti fa capire anche della paura che le persone hanno dei poveri è vero noi siamo abituati come dire a una cronaca quotidiana che ci ha abituato ormai a sentire di tutto no? però dall'altro lato come dire dobbiamo fare un po' attenzione perché quando ci troviamo di fronte a queste persone sono degli esseri umani io spesso vedo gente che con i cellulari cammina per Roma e nemmeno si rende conto che ci sia una persona che sta dormendo siamo talmente assuefatti da questo nostro mondo parallelo no? che non ci rendiamo conto delle sofferenze di queste persone quindi ci sono persone che come dire le ignorano totalmente ci sono persone che invece si danno un po' come vocazione un po' all'aiuto quotidiano e ci sono persone un po' che lo fanno quasi per uno scrupolo di coscienza come dire no? lo aiuto però dall'altro poi mi tiro indietro perché non voglio non voglio per paura non voglio come dire lasciarmi prendere dalle loro situazioni e così via quindi ci sono varie situazioni cambiano molti contesti molto le storie il centro rispetto alla periferia sono realtà cioè totalmente diverse chiaramente però c'è da dire che c'è una buona io faccio riferimento a Roma in prevalenza cioè una buona fetta di queste persone viene aiutata perché viene aiutata perché c'è una grande parte di associazionismo molto forte che fa un'unità di strada io il giovedì le incontro tante con cui collaboriamo quindi è molto bella questa realtà che si crea che chiaramente non riesce a risolvere tutti i problemi però almeno non c'è l'abbandono quello non c'è poi ci sono persone è chiaro che scelgono per loro come dire per loro identità per loro per la loro personalità ed è proprio una scelta personale di non lasciarsi aiutare io tante volte vado in strada voglio parlare con qualcuno oppure dagli qualcosa da mangiare e mi dicono che non lo vogliono o ti cacciano o ti dicono di andartene via cioè non è che il povero è solo quello che vediamo sulle cartoline dico sempre no cioè il povero ha anche tanta rabbia tanta sofferenza è chiaro che ci possono essere le giornate positive le giornate sì le giornate no quindi ci vuole anche un tatto particolare quando vai in strada perché ti trovi a confrontarti con persone che non vivono la nostra vita che hanno delle difficoltà delle ferite molto forti molto difficili e quindi rapportarsi con loro deve essere anche molto graduale bisogna entrare in punta di piedi con delicatezza cercare proprio di aiutare di porgere la mano se loro però vogliono quella mano non bisogna io dico sempre che non bisogna insistere tanto se hanno bisogno comunque ti verranno a cercare prima o poi senti Angelo spostando un attimo l'attenzione appunto nel mondo dei servizi di cui tu sei ovviamente ricercatore perché il dipartimento è quello di scienze sociali secondo te qual è il rapporto dell'assistente sociale con questo tipo di realtà come che cosa si potrebbe fare per migliorare questo tipo di appunto di incontro rispetto alla tua esperienza io credo che bisognerebbe fare più esperienza sul campo più esperienza sul campo nel senso che va benissima la formazione universitaria tutto quello che vogliamo però siccome sono delle realtà molto diversificate tra di loro se ci occupiamo di minori c'è un senso ci occupiamo di immigrati ne ha un altro le donne vittime di tratte e così via e l'uomo che vive strada è un'altra tipologia cioè io penso che l'assistente sociale di oggi che ha un grande ruolo un grande ruolo proprio di quasi di ponte tra le istituzioni e il contesto come dire locale per usare un termine per usare un po' queste due queste due biografie dovrebbe come dire vivere delle esperienze più dirette più vicine più vicine che chiaramente sono delle esperienze dell'uomo laico del professionista che non è l'esperienza che faccio io però secondo me se quella realtà la conosci quindi la vivi direttamente allora puoi applicare puoi anche come dire ideare delle metodiche di intervento che siano più efficaci quindi diciamo è una professione che secondo me è in continua evoluzione però ha un senso nella misura in cui viene incrementata di esperienza quindi cioè un po' quello che fa la sociologia cioè teoria e ricerca no? in questo caso dovrebbe essere esperienza e formazione che non sono due due punti in contraddizione sono due anelli che si vanno a congiungere quindi se non è importante l'aspetto formativo sicuramente ma questo aspetto formativo al di là dei tirocini in sé dovrebbe essere collaudato da esperienze di esperienze sul campo molto più costanti ecco su vari ambiti e su varie su varie questioni emergenze ecco perché appunto a me sembra un po' che tutte le politiche di inclusione sociale si riducano poi a erogare dei 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 redditi dei benefici economici eccetera eccetera ma che manchi un po' il contatto diretto con questa con questa realtà che invece è proprio il contatto che potrebbe fare la differenza ecco senti ovviamente visto il momento storico in cui questa intervista sta avvenendo non posso non farti una domanda a riguardo e ovvero con questo coronavirus come la stiamo vivendo per strada qual è la percezione che hanno queste persone di quello che sta succedendo nel mondo dell'opulenza se così vogliamo chiamarlo ma sicuramente c'è forse da parte loro meno paura meno paura perché chiaramente noi siamo quotidianamente esposti magneticamente a tutte le possibili immaginabili forme di comunicazione va benissimo per carità però dall'altro la cosa che un po' mi dispiace è che queste persone sono più sole di prima per certi aspetti perché io stesso ho dovuto modificare anche per le ordinanze del governo le distribuzioni dei pasti perché non è facile in questi giorni farlo è vero che ci sono molte realtà che sono molto più attrezzate e come dire hanno continuato però certo è una situazione molto difficile da gestire io mi auguro che si possa concludere si possa chiudere il prima possibile però da parte loro secondo me c'è meno paura di quando ne possiamo avere noi perché loro sono abituati già a vivere delle situazioni di difficoltà che sono terribili quindi ho un virus un altro virus poco cambia poco importa però certo se dovesse continuare ancora per molto tempo non lo so che cosa potrebbe accadere in questo senso perché poi insieme alla paura si mescola anche la rabbia insomma la paura poi scatta in dei meccanismi di protezione che possono essere anche deleteri soprattutto per chi non ha una casa io ragionavo prima e pensavo quando si parla della quarantena oppure non uscite di casa ma chi ce l'ha una casa chi non ce l'ha sta casa vive per strada vive sui marciapiedi cosa fa cioè forse questa è anche la questione che in questi giorni non si sta toccando perché va benissimo il fatto di attenersi alle regole al governo non andare in strada perché dobbiamo essere anche responsabili però queste persone che non vivono che non hanno una vita come dire classica una nostra vita che non hanno un appartamento una casa un letto come ci si comporta come come si può aiutarli e questo è molto complicato perché un conto è dargli un postoletto e lo si trova un postoletto un pasto nei momenti normali di quotidianità ordinaria in un momento del genere in cui tutti purtroppo non è che loro o noi ma tutti siamo esposti ad un contagio di questo tipo è difficile trovare delle soluzioni dei metodi di intervento più che per noi che viviamo una vita tra virgolette normale ecco certo senti c'è il caso di una di queste persone che vuoi raccontare una storia a te particolarmente cara o che ti ha insegnato davvero qualcosa rispetto a questo tipo di azioni che stai intraprendendo sì c'è una storia di cui parlo anche all'interno del libro è una persona che purtroppo non c'è più si chiamava era un marocchino era di origine marocchina un uomo che come dire secondo me rappresentava un po' come diceva la mateta il più povero tra i poveri perché era viveva sempre strada spesso e volentieri si lasciava andare come dire all'alcolismo per depressione e quant'altro lui mi ha insegnato tanto perché mi ha insegnato una cosa molto bella che è la stima la stima nel senso che io spesso quando lo andavo a cercare anche quando lui non lo incontravo lui diceva ma tu sei l'unico che mi viene a cercare e così via ti ricordi di me sempre e questo secondo me è rapportato anche un po' alla vita quotidiana dovrebbe farci capire molto perché noi spesso e volentieri veniamo ricordati o ci ricordiamo delle persone in particolare i momenti invece queste persone le persone l'individuo c'è sempre in qualsiasi momento sia quando sta bene sia quando sta male sia quando scherza sia quando piange e Jonas questo mi ha insegnato tanto perché era una persona che solo al mondo proprio non aveva nessuno non poteva tornare a casa sua perché non c'aveva soldi non poteva non poteva come dire ritornare nella sua terra non poteva nemmeno sentire talvolta sua madre al telefono proprio per questioni economiche anche perché non c'erano i mezzi per metterla in comunicazione con la madre e lui devo dire c'aveva un affetto un rispetto che superava proprio forse l'identità di un comune cittadino che quotidianamente puoi incontrare pur essendo come dire spesso e volentieri trasantato sporco abbandonato perché molte di queste persone tra cui lui sono quelle persone per cui tu puoi fare anche una piccola cosa per loro vale tantissimo ti ringraziano cento volte magari noi invece facciamo sedere una persona normale tra virgolette sull'autobus quella persona lo dà per scontato per dovuto invece per loro tra cui lui questi gesti anche più semplici anche più piccoli potevano diventare delle svolte per la loro giornata certo ecco un'ultima domanda io so che tu ti occupi anche di nuove forme di lavoro sul web con i social network eccetera eccetera ci vuoi raccontare un attimo di questa cosa e soprattutto che consiglio daresti a una persona che sta iniziando la sua carriera e che si trova a confrontarsi con questo tipo di realtà che a volte sono interessanti davvero altre invece sono fasulle ma sai allora io studio molto il digitale quindi mi occupo molto di comunicazione digitale di web è chiaro che il web ha rivoluzionato totalmente la vita professionale qualsiasi vita professionale dal giornalismo alla docenza alla ad ogni forma diciamo di professionalità tradizionale perché tutte le professioni ormai sono toccate dal mondo digitale io dico sempre che sì è vero che il mondo digitale ha rivoluzionato la vita e forse ti dà delle opportunità di metterti in contatto con persone che prima non avresti mai potuto incontrare o conoscere anche degli spazi diciamo comunicativi che prima erano inesistenti però bisogna fare attenzione perché non va sostituito l'aspetto come dire formativo con una mera presenza in rete e a rischio c'è perché se noi mettiamo basta guardare un po' gli avvisi insomma delle richieste di lavoro sulla rete spesso rimani un po' importante perché rimani un po' basito perché va benissimo c'è una richiesta di in rete di queste persone però bisogna queste persone che sanno fare cioè non è che il fatto di stare in rete non deve essere come dire una giustificazione per dire io lo dico al mondo e qualcuno forse mi prenderà a lavorare cioè ci deve essere una formazione e anche una competenza che non è che con la rete con il mondo digitale non esiste più c'è sempre anzi forse ce n'è di più perché sono aumentate le professionalità sono aumentati gli spazi lavorativi è un dato positivo il fatto di poter utilizzare la rete come nuovo ambito come dire applicativo di queste competenze pensiamo a tutto quello che succede in questo tempo di coronavirus con con la riscoperta e con il miglioramento della distanza no della della didattica che spesso è stata sempre considerata una forma di comunicazione molto secondaria diciamo in questo momento storico in cui siamo tutti chiusi in casa siamo costretti anche a rivalutare questo utilizzo della rete questa è una cosa interessante che spero possa continuare poi nel tempo non solo in questo momento quindi c'è un'attenzione specifica perché è cambiato un po' la realtà il modo di rapportarsi al lavoro però c'è anche un modo come dire di guardare a questa professionalità che non va come dire ridimensionato non va ridotto ma anzi va sempre più incrementato di competenze certo senti Angelo ci vuoi dare un messaggio di serenità di fiducia in questo momento in cui siamo anche noi emarginati sociali e forse gli homeless a questo punto lo sono meno di noi in questo preciso momento perché almeno loro stanno tutti insieme per strada a noi invece ci è stato imposto di chiuderci nelle nostre case ci vuoi dare un messaggio di serenità con cui chiudere questa questione sì io guarda a parte io sono sempre molto ottimista perché avendo visto spesso può venire molte realtà in India basta vedere tutte le mie giornate come erano strutturate in India ho visto delle cose insomma anche di malattie ed edurpazioni fisiche che insomma ti rimangono dentro no? quindi è chiaro che quando vivi invece una realtà come questa in cui stai a casa tua sì ti puoi proteggere è tutta un'altra tutta un'altra storia io spero che al di là del fatto che si concluda tutto nel minore tempo possibile mi auguro che questa esperienza che noi stiamo facendo dello stare chiusi dello stare lontani no? possa in un certo qual senso aiutarci a comprendere il vero senso proprio della della nostra quotidianità no? dei nostri rapporti quindi di guardare all'abbraccio alla carezza alla stretta di mano con più attenzione alla vicinanza proprio no? con più con più attenzione perché è come se negli ultimi anni l'avvento delle tecnologie che sono straordinarie che ci aiutano tanto abbiano ridotto questo no? e quindi forse questo momento in cui invece noi stiamo riscoprendo un po' lo stare più a casa con i nostri cari no? con le persone a noi care che non possiamo a volte abbracciare il nostro amico la nostra amica stringergli la mano dargli un bacio no? possa come dire farci capire che quando mancano questi momenti per l'essere umano è brutto cioè l'essere umano ha bisogno di di relazionalità ha bisogno proprio di di vicinanza di prossimità no? e quindi mi auguro che questo possa essere come dire anche un modo per interrogarsi per capire che il vero senso della vita non è lo stare dalla mattina alla sera su whatsapp è proprio guardare negli occhi una persona tendergli la mano cosa che in questi giorni non possiamo fare no? quindi questo venir meno a tale a tale come dire dinamica relazionale secondo me in questi giorni ci può far capire il bello della vita il bello dello stare insieme del divertirsi insieme e non chiudersi dentro una casa o dentro una pagina facebook una mattina a sera perché la vita è altrove la vita sta proprio in altri spazi senti Angelo io ti ringrazio infinitamente per questo tuo intervento preziosissimo e voglio salutare tutti gli web radio ascoltatori di social work e spero che noi si possa ridialogare in un futuro e ti auguro buona fortuna per tutto perché tu veramente svolgi un ruolo sociale che molti di noi o molte persone della società non considerano nemmeno o rifiuterebbero quindi ti faccio i miei complimenti e ti ringrazio grazie a voi ciao a presto alla prossima alla prossima ciao 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 Grazie.